Fece piangere Obama sulle note di apostrofo You make me feel like, a natural woman, è stata la prima donna ad entrare nella rock and roll o all of fame e lo stato del Michigan ha dichiarato la sua voce una risorsa naturale. In oltre 60 anni di carriera, Erytha Franklin ha incantato il mondo intero con la sua voce, ma ora la sua vita è appesa ad un filo, The Queen of Soul è gravemente malata in un ospedale di Detroit, in Michigan. Erytha ha avuto una diagnosi di cancro nel 2010, ma si è sempre rifiutata di fornire dettagli. Il peggioramento delle sue condizioni di salute l'aveva costretta a cancellare una serie di concerti nel 2017 e sempre l'anno scorso aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, sottolineando che avrebbe tuttavia continuato ad incidere. La sua ultima esibizione è stata lo scorso novembre a New York al gala della fondazione di Elton John per la lotta all'AIDS. Il suo ultimo concerto, invece, nel giugno del 2017 quando tra l'emozione generale salutò il pubblico dicendo per favore tenetemi presente nelle vostre preghiere. Nata a Memphis, in Tennessee, il 25 marzo del 1942, figlia di un pastore battista e di una pianista e vocalist, la Franklin iniziò a cantare da piccolissima durante le funzioni religiose. Quando aveva poco più di quattro anni, la famiglia si trasferì a Detroit e a soli dieci anni, poco dopo la morte della madre, Aretha cominciò a cantare come solista nella chiesa a New Bethel dove il padre era pastore. Quattro anni dopo il padre cominciò a portarla in giro con lui, dandole la possibilità di esibirsi durante i suoi sermoni. Il primo contratto discografico risale al 1956 con la GVB Records, e il suo primo album fu Songs of Eight. Nel frattempo aveva avuto anche due gravidanze precoci, una a 14 anni e l'altra a 16. La vera e propria scalata alle classifiche iniziò negli anni 60 con l'etichetta Columbia. Nel 1967 arrivò il singolo apostrofo You Make Me Feel Like, a Natural Woman con la casa discografica Atlantic, nello stesso anno rispette l'anno successivo Think. Durante la sua carriera ha vinto 18 gremi e ha venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Nel 1987 entrò come prima donna nella Rock and Roll Hall of Fame, ai gremi del 1998 sostituì Luciano Pavarotti colpito da un malessere e improvvisò in 20 minuti un'interpretazione del Nessun Dorme in tonalità originale e cantando la prima strofa in italiano. La performance è considerata una delle più grandi esibizioni di sempre ai gremi. Da sempre democratica, la Franklin ha cantato a Washington alla cerimonia di insediamento di Barack Obama, mentre il 29 dicembre 2015 si è esibita con il suo successo apostrofo You Make Me Feel Like, a Natural Woman durante la cerimonia per il conferimento dei Kennedy Center Honors, commuovendo il primo presidente afroamericano d'America. Copy Rig 3 Produzione riservata Lunedì 13 agosto 2018, ultimo aggiornamento, 20 e 1 ultimo aggiornamento, 20 e 1